Ha suscitato forti emozioni anche pensare che le protagoniste di questa vicenda sono protagoniste reali, che esistono veramente e che sono anche più piccole di noi, di qualche anno ma sono più piccole di noi e pensare che a una me, quattordicenne, che debba passare attraverso la situazione che hanno dovuto subire loro veramente mi lascia anche senza fiato e consiglio a tutti di venire a vederla, più che altro anche per la bravura dell'attrice, nonché anche regista, dello spettacolo perché veramente ha fatto capire a tutti quanti, a tutti quelli che erano qui ma anche da casa l'importanza di dover sensibilizzare sotto questi aspetti così importanti come ovviamente le violenze sulla donna ma anche violenze in generale.